mortadella cosa è mio questo ah e no pensavo fosse la corsia no 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 mi scusi ok mi scusi grazie mille allora si grazie lo so che la corsia di là ma è nel mio cestino io ne avevo una se vuole che chiamo la sicurezza se vuole le do anche il portafoglio se vuole derubarmi non lo so cosa questo qui è mio sì ma ho visto che ha preso le stesse cose che interessano anche a me capito detto magari lei un po più tempo libero io solo 20 minuti di pausa pranzo quindi se vuole prendo il carrello lei tanto tempo per rifarla grazie mille ah non me lo lascia direi proprio di no neanche posso prendere questi questi po me li concede almeno questi no non le concedo niente ma che grazie di ragionamento lei ha più tempo di me non voglio offenderla ci mancherebbe scusi forse ne è caduto il portafoglio cosa ci stare voleva un po d'acqua non va a prendere l'acqua di là ma sono tipo 50 metri ne ha tre assolutamente vada quanta maleducazione allora ragazzi purtroppo il video finisce qua mi sembrava doveroso spiegarvi cosa fosse successo allora praticamente in un piccolo supermercatino in centro a torino è successo l'irreparabile ovvero dopo che ho fatto questo scherzo alla signora questo prank la signora si è un po allarmati faccio una signora vuole che aveva uno scherzo lui mio complice e io ho spiegato la situazione la signora sembrava avesse accettato anche riso è andata via dopo un po arriva la security ci sbatte a me contro la una corsia purtroppo non l'ha ripresa ma sono riuscito ad avere un frame anche perché poi mi hanno preso la gopro sbattuta ha tolto la memoria hanno fatto un casino la signora è andata a dire che io praticamente gli ho messo le mani nella borsa gli ho rubato il telefono è successo un casino allora quando la sicurezza mi ha preso mi ha sbattuto io ho chiamato subito i carabinieri dicendo guarda che non è vero cioè non è che ho fatto quello stavamo facendo appunto il video e loro pensavano che il video fosse una sorta di alibi per rubare davvero e quindi è successo un casino perché poi le riprese erano cancellate i carabinieri non capivano per fortuna però avevo le scene fatte in un altro supermercato fuori Torino in cui è andato tutto bene le vittime hanno rito purtroppo però essendoci una pratica in atto anche se è tutto finito lì come mi hanno detto i carabinieri non posso fare altre scene nei centri commerciali o supermercati perché dovesse una persona anche solo fare una segnalazione sarebbe la stessa segnalazione sullo stesso tra virgolette reato e quindi potrebbe succedere un casino spero che comunque il video vi sia piaciuto lasciate un like se volete un episodio sperando fortunato quest'estate su rubare la spesa alla gente e noi ci vediamo in un prossimo prank mi raccomando seguitemi su instagram ciao Scusa era uno scherzo in realtà Lui è il mio complice E' uno scherzo Era uno scherzo in realtà Lui è il mio complice Era